Sì, questa è l'ortega, vedi? Un'erba vicinale. Si possa fare la frittata con l'ortega e le cose. E dietro l'ortega, qui, attaccata al muro, che c'è umidità, il sole sorge nel tardo pomeriggio. Ci sono molte ciamarucche, guarda quanto ciamarucche. Allora, adesso vi faccio vedere. Questa è una ciamarucca, bella che grossa. Eccola qui, eccola qui, eccola qui. E qui c'è un'altra fila di ciamarucca. Prima generazione, seconda generazione, terza generazione. Guarda quanto c'è inostante. Ah, facciamo una magna. Vieni che sta magna. Se mi fa, bella frittata. Eccola qui, eccola qui, ciamarucca. E poi si mangia un po' di cose l'ortega. E' l'uovo. E' la, e' la, e' la, e' la, e' la. Ecco qui, ecco qui. Vedi, chi cerca trova. Guarda, 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 ciamarucca. E' che non ci sta volendo, eh? Guarda quanto c'è inostante. Fammola accampare. Fammola accampare. E' la ciamarucca. E' se cambiare anche la nazione. Ah, ecco c'è l'ortega. Questa è una pianta di, si, un'altra pianta molto utile, il sambuco. Ha visto gli stagli dell'ortega. E' che' più prosperosa. Guarda quando c'è in marucca. una ciamaruca ecco un altro loco sotto guarda una ciamaruca una ciamaruca, un altro ciamaruca piccolo a fammi raccappare uno là guarda ecco si prosegue il sangine stanno ciamaruca alle alle il Grazie.